Il tema del caro Bollette è stato al centro della riunione regionale dei titolari di villaggi turistici e campeggi d'Abruzzo. Una questione che ha inciso molto sui bilanci della categoria nell'ultima stagione estiva. Le strutture presenti in Abruzzo tra villaggi e campeggi sono 105, di cui la maggior parte nella costa terramana. Eravamo confortati dai dati ottenuti l'estate scorsa dove c'è stato un boom soprattutto per le strutture ricettive all'aria aperta qui in Abruzzo e ci siamo svegliati poi con questo caro Bollette che in realtà ha nominato i nostri bilanci. Noi chiediamo interventi più sostanziosi rispetto a quelli in essere adesso. In queste settimane inoltre è partita la campagna di vendita dei pacchetti, è un argomento su cui gli operatori stanno lavorando per tenere basse le tariffe, anche se un aumento minimo ci dovrà essere per forza per contrastare la questione dei rincari. Se oggi la svalutazione è al 12,50% noi non ci possiamo permettere il lusso di aumentare le tariffe di questi importi. Facciamo impresa, il rischio ce lo assumiamo, ce li siamo assunti, e stiamo cercando di contenere al minimo l'aumento delle tariffe, ma com'è difficile poter rimanere in piedi quando le bollette, cioè l'energia, le strutture come queste assumono una voce importante nei bilanci. Siamo il 30% dei costi è fissata sull'energia, se noi la aumentiamo di tre volte si crepisce al volo che è impossibile rimanere aperti. Tra gli argomenti trattati è anche la questione del brand Abruzzo, che piace molto ma bisogna ancora lavorare per promuoverlo al meglio. Come Faita Feder Camping Nazionale abbiamo fatto un rilevamento, un censimento delle strutture presenti sul suolo nazionale, e nell'occasione ci siamo concentrati un focus sull'Abruzzo per vedere il rapporto alle altre regioni e come siamo messi. Reggiamo il confronto, ma è sorto inequivocabilmente che l'immagine del nostro territorio ha il più sconosciuta. Siamo fiduciosi che tutte queste problematiche non solo vengono ascoltate, ma senz'altro si trovi una soluzione per rendere sempre più conosciuto il nostro territorio in Italia e soprattutto all'estero. Grazie a tutti.